buongiorno anche quest'oggi al corso di formazione online per farmer scientist siamo nel regno vegetale in particolare parliamo del senecione sudafricano nome scientifico senecio in equidens questa specie proviene dal sud africa in italia per la prima volta è stata segnalata nel 1947 nei dintorni di verona ma da allora si è diffusa in quasi tutta la penisola tutte le prime introduzioni di questa specie sono associate a casi di esportazioni accidentali nell'ambito del commercio e alla trasformazione della lana grezza in assenza di controllo è probabile che la specie avanzi ulteriormente favorita dai movimenti dei veicoli lungo le strade e lungo le reti ferroviarie è una pianta perenne erbacea con radici fittonanti e poco profonde e dei fusti legnosi alla base alti complessivamente tra i 30 e i 100 centimetri le foglie che possono avere margine intero o irregolarmente dentato sono alterne di verde pallido glabre laciolate e di dimensioni decrescenti verso l'apice lunghe tra i 3 e i 14 centimetri mentre i fiori sono gialli e disposti in capolini i frutti invece sono biancastri e setosi sormontati da un appendice piumosa di peli bianchi per quanto riguarda le specie simili può essere confusa con jacobea paludosa in alto a sinistra che però le foglie bianco pelosi sulla pagina inferiore jacobea erucifolia in alto a destra e jacobea vulgaris in basso a sinistra che però hanno le foglie verticillate e opposte e i capolini assenti per quanto riguarda gli infatti la presenza di questa specie riduce il valore dei pascoli poiché è tossica per gli animali a sangue caldo uomo incluso in quanto contiene alcaloidi che possono passare nel latte attraverso appunto il pascolo o persino nel miele attraverso il nettare raccolto dalle api che ne visitano i fiori il principale impatto invece sulla biodiversità è legato alla sua elevata competitività e capacità di colonizzazione infatti ha un elevato tasso riproduttivo poiché ogni pianta può sviluppare 80-100 infiorescenze e produrre quindi circa 30.000-6.000 anno l'impatto sulla salute umana è legato alla tossicità di questa pianta della quale abbiamo parlato proprio pochi secondi fa e per questa ragione la sua diffusione è allarmante in quelle regioni che basano la propria economia sulle risorse agropastorali e sull'apicoltura. Io anche per oggi ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione.